Esame computerizzato del piede per tutti gli atleti del Teramo Basket, sia per quelli della prima squadra che per quelli del settore giovanile. Esattamente, sì. Sono stato chiamato volentieri, ho partecipato a questa richiesta. Io sono un tecnico ortopedico, abbiamo un lavoro ortopedico dove realizziamo plantari su misura e vari presidi su misura ortopedici. Quali sono le finalità di questa visita specifica? Le finalità di questa visita sono, prima di tutto, noi andiamo ad analizzare proprio l'appoggio del piede, cioè dove ci sono i carichi maggiori e minori. In base a quel carico, noi andiamo ad analizzare proprio la postura della persona stessa, se c'è un dislivello oppure un carico maggiore sul metatarso, sul tallone, e lì poi andiamo a correggere le varie patologie del piede stesso. Perché è importante per un atleta fare questo esame? È importante perché, ecco, perché là andiamo ad analizzare proprio l'asse della persona, perché non avendo l'asse della postura della schiena oppure delle gambe o delle anche quello che sia, ecco, potrebbe avere possibilità o problemi durante il gioco, avere delle distorsioni alla caviglia oppure alle ginocchia o dolore. Anche per prevenzione si fa? Per prevenzione si, soprattutto anche per prevenzione e per curativo poi, sì. Alcuni problemi senza questo esame non verrebbero mai a galla? Esattamente, no, non verrebbero a galla, anche se qui poi io voglio specificare che ci vorrebbe anche l'aiuto di alcune altre professioni, figure professioni come il fisioterapista, l'ortopedico, il fisiatra, l'osteopata, tutti insieme. Dovebbe essere un'equip che dovrebbe realizzare, diciamo, questa situazione, ecco, oppure del plantare stesso. In che cosa consiste questo esame? Cosa fate nel dettaglio agli atleti? Allora, noi facciamo la statica appunto per vedere lì, la prima cosa è il baricentro, vedere se il baricentro è spostato o a destra o a sinistra, perché lì ci accorgiamo proprio se c'è un dislivello. Poi c'è la dinamica dove si va a vedere la distribuzione del carico durante il cammino o la corsa dell'atleta stesso e ci accorgiamo appunto dove poter fare la correzione stesso del plantare, dove dare dei scarichi o dei carichi nei vari punti del piede, perché magari ci sono dei carichi maggiori sul piede, se la andremo a scaricare, oppure degli appoggi minori dove andiamo a caricare per far distribuire meglio il carico del piede stesso. Il tutto, come dicevamo, attraverso un computer? Attraverso un computer, sì, senz'altro. Con l'aiuto del computer, se no, senza di quello non potremmo fare nulla. Ad occhio è impossibile, ecco. Ad occhio è impossibile, ecco.